Musica Ha perso il controllo della vettura che è finita e ribaltata nel fosso che costeggia la carreggiata. E' accaduto questa sera, giovedì 15 marzo, poco prima delle 19, sulla provinciale 13 alla Rocchetta, tra Valperga e Busano, forse per il manto stradale reso viscito dalla pioggia. A ribaltarsi nel fossato una Mercedes C 230. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della radiomobile di Vrea e una pattuglia della stazione di Guarnier, il leso conducente della vettura. Decertamenti sulle cause dell'incidente sono al Valle dei Carabinieri. Grazie a tutti! Grazie a tutti!